Scendono nuovamente in campo per far sentire la propria voce i risparmiatori azzerati di Banca Etruria che venerdì mattina incontreranno il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi e a lui consegneranno un esposto. Saranno Letizia Giorgiani e Vincenzo Lacroce a consegnare la documentazione nelle mani del procuratore capo di Arezzo, titolare delle inchieste aperte carico della vecchia Banca Etruria. Sì, è un filone di inchiesta ancora non esaminato e abbiamo preparato della documentazione tecnica e dei conteggi che sono nati e preparati per aprire questo nuovo filone. Lunedì prossimo invece sarà la volta di Banca d'Italia e la stessa delegazione infatti incontrerà di nuovo il dottor Stefano De Polis. Abbiamo un appuntamento con il direttore delle unità di risoluzione, il dottor De Polis che già avevamo incontrato il 3 di marzo e quindi portiamo a conclusione una trattativa già iniziata all'epoca. Vediamo se la disponibilità manifestata tre mesi fa si metterà in pratica del reno.